Improvvisa notizia negativa per, che ha fatto una brutta scoperta su social. Anche la sua fidanzata Antonella Fiordelisi è stata messa al corrente della situazione dai loro fan e si sta cercando di capire cosa stia succedendo Una vicenda sicuramente tutt'altro che piacevole per l'ex concorrente del grande fratello Deep, che stava ottenendo solamente successi in questo periodo L'annuncio è stato comunque fatto da Dejanira Marzano, sempre in prima linea nel fornire dettagli interessanti A proposito di Edoardo Donna Maria, dopo il le prima di questa scoperta sul social, aveva detto qualcosa sulla sua canzone Il cielo stanotte ha decisamente scopolato tra i fan, prima tra tutti la mamma di Edoardo Donna Maria Ebbene, proprio tra le storie condiviso su Instagram, l'ex Gettino ha pubblicato le immagini che ritraggono la mamma proprio mentre ascolta la canzone dedicata ad Antonella Per la donna, l'emozione è stata tale da lasciarla commuovere, mia mamma ha finto di non piangere quando l'ha sentita Leggi anche, Edoardo Donna Maria, brutta scoperta sui social Quindi, l'esperta di gossip Dejanira Marzano ha postato una foto eloquente inerente Edoardo Donna Maria Quando lui ha fatto questa scoperta social non sarà stata affatto felice, così come Antonella La sua partner non ha compreso le ragioni di questa notizia non positiva e si sta indagando per rendersi conto ufficialmente di quanto si sta verificando in particolare su TikTok Proprio qui infatti si sono registrati dei problemi a sorpresa, che stanno mettendo in difficoltà il volto di Forno Questo quanto comunicato da Dejanira, dopo il video della canzone e il profilo di Donna Maria è stato segnalato su TikTok Ancora noti i motivi. Infatti, si può notare che c'è scritto che l'account dell'ex vipone è bloccato Sicuramente nelle prossime ore il social network potrebbe dare ulteriori informazioni al giovane, che spera di recuperare al più presto i profili Per il momento potrà comunque continuare ad utilizzare Instagram per far vedere la sua vita quotidiana e suoi ammiratori Quindi, l'account TikTok di Donna Maria non sarebbe ancora raggiungibile e spiegazioni non ce ne sono Resta il mistero intorno a questo vero e proprio caso, scoppiato nelle scorse ore e del quale se ne è subito occupata la Marzella Grazie Grazie Grazie